Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team Il Cagliari per rifarsi della recente pesante sconfitta contro la Juventus, la Sampdoria per uscire dalla crisi e ritrovare il sorriso dopo tre sconfitte consecutive. Amici della Serie A Team ben ritrovati e buona serata da Alberto Pucci. Alzante, Elia, Cagliari e Sampdoria chiudono la sesta giornata di Serie A Team con un match particolarmente importante per entrambe le formazioni che arrivano da un periodo non facile. Cagliari e Sampdoria comincia in questo istante. Praet, il tocco dietro per Regini, gli porta via dal pallone Isla, attenzione al Cagliari, subito pericoloso, colpo di testa, subito un'apertura di Sao, Isla. Palla larga, dove arriva di gran carriera Murru, prova a spingere, potrebbe esplodere il sinistro, ci mette Guantoni Viviano. Altra occasione per il Cagliari, primo calcio d'angolo del match, si infiamma il Sant'Elia. Prova la conclusione, Cagliari, Storari in calcio d'angolo, una sassata dai 30 metri di Luca Cigarini. Va Cigarini, pallone che spiove, colpo di testa in mischia, tentato da Skriniar. Borriello, si gira, ancora Borriello, pallone su sinistro, non è il suo piede preferito, infatti rischia di perdere il pallone. Padoin però arriva prima di tutti, potrebbe mettere nel mezzo, Padoin, Padoin, la rete, rete, João Pedro. La sblocca, João Pedro. 37 minuti di gioco, Cagliari 1, Sampdoria 0. La grande giocata di Padoin, poi la tocco sotto di João Pedro. C'è un'intesa con Gavillucci che dà il via del secondo tempo. Cigarini, cross in area di rigore, non è un granché, allontana Cepitelli. Alvarez, Praet, ancora Alvarez, attenzione al sinistro, da lì lo prova. L'ingresso di Melchiorri. Pagliarella, la conclusione dalla distanza. Una fiammata di Fabio Pagliarella, pallone che sibila vicino al palo di destra. Dentro anche Bruno Fernandes. Vallex Udinese con il destro, pallone che spiove, che passa, poi la conclusione. Alvarez, Quagliarella, attenzione dalla porta opposta, Bruno Fernandes. La palla sul destro, la rete, rete, pareggio Sampa. Bruno Fernandes. A quattro dal termine, la beffa per il Cagliari. Lancia in profondità, posizione regolare per Melchiorri. Attenzione, Rafa, l'errore, Melchiorri rete! L'errore di Viviano, che regala il gol a Melchiorri. Incredibile al Sant'Elia, incredibile! Triplice fischio finale di Gavillucci. Game over. Al Sant'Elia esplode il pubblico di casa.